Benvenuti a tutti ragazzi, eccoci in un'altra video guida dove vi mostrerò come utilizzare i pannelli luminosi e colorati che non so se sono a led o comunque i pannelli luminosi per creare le vostre insegne e ovviamente dovete essere in un vostro insediamento io qui ho messo la S di Sanduari Mix e anche di Supermarket perché ho creato appunto il mio market personale direttamente a Sanduari con i mercanti e mi forniscono appunto i materiali necessari per la costruzione di nuove case oppure munizioni semplicemente ok, leghiamoci innanzitutto in uno spiazzale che ho creato appositamente per questo tutorial entriamo in modalità creazione, entriamo nella sezione energia, poi varie e poi selezioniamo qua i pannelli luminosi ok, facciamo un'immagine d'esempio, creiamo una casetta i pannelli si attaccheranno l'uno a fianco all'altro o l'uno sopra l'altro in questo caso facciamo una casetta se volete lasciare un vuoto sopra c'è un vuoto nella vostra immagine ad esempio volete fare un cerchio vi basterà semplicemente uscire dalla creazione così e rimuovere appunto il pannello di illuminazione che rimarrà appunto vuoto non cadrà magicamente ok, facciamo la nostra casetta con la porticina ok, adesso abbiamo creato la nostra immagine ovviamente è un'immagine di base abbiamo la bellezza di 3, 5 quanti capperos sono? allora contiamoli bene 1, 2, 3 6 10 14 18 20 22 pannelli luminosi ora, ogni pannello luminoso come vedete sulla destra richiede un'energia ciò significa che per 22 pannelli dobbiamo creare dei generatori andiamo sempre in energia generatori ok, selezioniamo questo grande per costruirlo come vedete sulla destra vi servirà il grado 1 di scienza in questo caso io ovviamente ce l'ho mettiamo i generatori qui e ne posizioniamo 2 grandi che forniscono 10 ciascuno di energia e uno piccolo che ne fornisce 5 ok, una volta posizionati dobbiamo collegare pannello per pannello ad ogni generatore in questo caso lo colleghiamo tranquillamente premendo triangolo come vedete collega filo come ho spiegato nel precedente tutorial per creare le fondi di luce e i generatori prima un triangolo si creerà il filo vi servirà abbastanza tanto materiale per creare questa diciamo questa rappresentazione che ho fatto io servirà abbastanza rame e molto molte molte viti vetro ok, qua abbiamo collegato le prime 5 fondi di energia ok 5 fili scusate ok, adesso passiamo all'altro ok, una volta collegati tutti quanti i pannelli eccoci qua con la nostra casetta con la nostra creazione il colore come si cambia? come vedete selezionando il pannello vi da illuminazione e scorre i colori quindi voi premendo semplicemente X scorrerete tutti i colori che vi interessano ad esempio vedete qua ci sono tutti i colori c'è il verde, c'è il blu ci sono tutti quanti i colori se dovete comporre diciamo dei disegni in questo stile con blocchi bianchi, blocchi rossi avete tanti diciamo pannelli non volete star lì a scorrere colore per colore ogni singolo pannello vi consiglio di entrare in modalità editor andare sempre su energia e selezionare il terminale questo terminale qui vi serve il grado 1 di Ayer vi ricordo questo terminale lo collegate sempre col filo al generatore che è appunto collegato a quei pannelli che vi serve cambiare luce in questo caso uscite andate nel terminale che vi darà una serie di opzioni in questo caso le facciamo magari vediamo cambiamo le facciamo tutte quante blu imposta colore andiamo sul blu facciamo imposta colore luce alta impostazioni colori luci adesso sta cambiando lui la luce a tutti i pannelli collegati a quel generatore quindi non so se sia tutto quanto il tetto vediamo cosa vediamo il risultato infatti non era tutto quanto il tetto comunque come vedete tutti i pannelli collegati a quel generatore sono diventati di colore blu quindi se volete fare creazioni molto più complesse di questa casetta e vi servono tanti pannelli con un unico colore fate in questo modo col terminale come vi ho detto io se no andate diciamo uno per uno a cambiare il colore del vostro disegno ok ragazzi anche per questo video è tutto io vi ringrazio per aver visto il mio video la mia guida spero che vi sia stata d'aiuto lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto e vi è stato d'aiuto commentate se avete dei dubbi o avete delle richieste su altre video guide sempre su Fallout 4 o su anche altri giochi ovviamente se ne sono in possesso vi farò la guida mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e vi ringrazio ancora ragazzi ciao a tutti ci vediamo al prossimo video